Grande vittoria in singolo per la canottiera Ilario, Riccardo Coan sugli scudi, una bellissima vittoria in una delle regate più combattute con il maggior numero di iscritti. Quando in realtà hai iniziato a credere che la vittoria poteva volare a Como o alla canottiera Ilario grazie a te? Sicuramente ho cercato di allenarmi a miglio in questo periodo e ci speravo, anche se comunque sapevo che è molto difficile. La gara è andata bene, dall'inizio ho cercato di portarmi in vantaggio e ce l'ho fatta. Il singolo in realtà per te è abbastanza una novità, ti abbiamo sempre visto sulle barche lunghe, ti abbiamo sempre visto in quattro di coppia, come mai questa scelta del singolo? Innanzitutto perché adesso c'è rimasto solo i miei compagni Pizzetti, stiamo provando anche un doppio e abbiamo voluto vedere come andava. Sei stato veramente bravissimo, tutti ti hanno fatto morire e questa stagione ti vedremo sempre in singolo? Boh, vedremo, speriamo. Non svegliamo le carte, in bocca al lupo! Grazie, crepi il lupo! Grazie. 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 Grazie.